I media svizzeri sono uno strumento importante per la formazione dell'opinione pubblica, per l'informazione regionale e la coesione sociale. Versano tuttavia in difficoltà finanziarie, perché gli introiti pubblicitari confluiscono in misura crescente nelle casse di grandi piattaforme Internet internazionali. L'informazione locale ne risulta indebolita. Pertanto Consiglio federale e Parlamento vogliono sostenere finanziariamente i media con diverse misure. Contro di esse è stato chiesto il referendum. Il comitato referendario ritiene infatti che il finanziamento pubblico di media privati sia superfluo e dannoso. Di cosa si tratta in dettaglio? Negli ultimi vent'anni gli introiti pubblicitari dei media svizzeri sono crollati e dal 2003 sono scomparsi più di 70 giornali. Con il pacchetto di misure per i media si intende potenziare l'informazione, soprattutto a livello regionale. Il progetto di legge prevede che le riduzioni concesse oggi per la distribuzione di giornali e riviste associative siano non solo mantenute, ma anche estese ad altri giornali e alla distribuzione mattutina. È inoltre prevista la promozione dei media in linea che fanno informazione nazionale. Tuttavia, saranno sostenuti solo i media cofinanziati dai lettori. Saranno inoltre assegnati contributi maggiori alle radio locali e tv regionali, che forniscono un servizio pubblico informando su temi di politica, economia e attualità regionale. Il progetto prevede anche aiuti per le agenzie di stampa e la formazione dei giornalisti, a beneficio di tutti i media indistintamente. Il pacchetto di misure sarà finanziato con il canone radiotelevisivo e attingendo alle finanze federali. Non sono quindi necessarie nuove imposte. Le misure a favore di giornali e media in linea avranno una durata limitata a sette anni. Per il comitato referendario saranno le grandi case editrici, già affermate, ad approfittare delle sovvenzioni, sperperando così i soldi dei contribuenti. A suo parere, le sovvenzioni miliardarie rendono i media dipendenti dalla politica, mentre una democrazia vitale ha bisogno di media indipendenti. Il progetto di legge distorce quindi il mercato ed è discriminatorio e antisociale, perché esclude arbitrariamente i media gratuiti dalle sovvenzioni. Il comitato reputa infine che le nuove sovvenzioni violino la Costituzione federale, la quale permette solo la promozione della radio e della tv. Per il Consiglio federale e il Parlamento è chiaro che, senza sostegno, altre testate giornalistiche rischiano di scomparire e le stazioni radio di essere indebolite. Il pacchetto di misure fa in modo che la popolazione in tutte le parti del Paese e regioni linguistiche benefici di un'informazione diversificata. I media svizzeri sono importanti per la coesione sociale e la democrazia diretta. Le grandi piattaforme Internet internazionali non informano infatti sugli eventi locali e regionali. Il progetto di legge non intacca l'indipendenza dei media. I giornalisti potranno continuare a informare liberamente su qualsiasi argomento. Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il pacchetto di misure a favore dei media.